Ehi, ragazzi, guardate che cosa ho preso. Oh, adesso devi metterlo! Ehm, mi fa paura. Fallo, fallo, fallo! Amico, come ci si sente là dentro? Mi sento... protetto. Mmm, al sicuro. Oh, è così bello il sicuro. Fammi provare. Gun! Wow! Anch'io voglio sentire come ci si sente con il mantello addosso. Cosa stai guardando, cane bastonato? Che perfida! A me non è piaciuto affatto. Attento, Cyborg. Quel mantello ti cambia veramente. Ma dai! Allora? Allora niente. È solo un pezzo di stoffa con un buco. Sta arrivando! Ando! Non riesco a toglierlo! Molto divertente, ragazzi. Che c'è? Tu hai le gambe! È una cosa stranissima. Sono abituato a vedere solo i tuoi occhi. È un po' della tua bocca. Ok. Ora va meglio. Andiamo, ridammi il mio mantello. È incastrato. Non dovevate rubarmelo perché mi stai nervosando. Wow! Questa era una dimostrazione dei tuoi sentimenti? No! Sto cercando di dirvi che mi avete fatto arrabbiare! Ah! Ai! L'hai fatto di nuovo! Ti stai aprendo! Ah! Sei più vera quando non ti nascondi dietro al tuo mantello. Smettila! La mia rabbia aumenta! Più vera! Più vera! In effetti, lui ha ragione. Il tuo atteggiamento è migliorissimo e parli in modo più comprensibile. E io mi sto... abituando alle tue gambe. Visto? Cosa ne pensi, cyborg? Viviamo in un universo privo di senso. Oh! Però le sue gambe sono molto belle! Oh! E io mi stai aprendo! D-E-E-N-T-I-T-A-L-S-T Tai! Dance! Let's go!